5 curiosità che non sapevi su Mare Fuori 1. La serie è girata al molo San Vincenzo di Napoli, quindi non si tratta realmente di un carcere 2. L'attrice che interpreta Nadizza non è napoletana ma romana, ha quindi dovuto imparare a parlare il dialetto e ci è riuscita benissimo 3. La sigla di Mare Fuori è cantata da Matteo Paolillo, Edoardo nella serie 4. Carmine e Filippo sono amici nella vita reale 5. Uno dei registi preferiti di Nicolas Mopà è Federico Fellini